Arcangela Tarabotti è considerata una pensatrice proto-femminista perché rivendica per le donne un ruolo, diritti non si può dire perché sarebbe fuori contesto, ma assolutamente incredibili per il mondo, per il mondo storico in cui si trovava a vivere. In particolare c'è anche un'opera che ha un titolo già di per sé molto evocativo. Grazie.